Buongiorno da Maria Luisa Barbaruno nello spazio social di Vediamoci Chiara. Oggi è un grande onore perché è con noi il dottor Francesco Di Piero. Buongiorno dottor Di Piero. Buongiorno a lei chi ascolta. Buongiorno. E buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Allora ho invitato qui il dottor Di Piero su Vediamoci Chiara perché con lui vorrei parlare oggi di reflusso gastroesofageo e la prima domanda è un po' una domanda di rito dottor Di Piero quindi le chiedo che cos'è esattamente il reflusso gastroesofageo? Il reflusso gastroesofageo è un disturbo molto molto comune più di quello che probabilmente gli ascoltatori possono immaginare. Consideriamo che in Europa colpisce almeno il 10 20 per cento della popolazione e in un 30 per cento di loro arriva a determinare anche delle erosioni esofagee. Un 3 per cento di loro delle vere e proprie ulcere. Quindi un disturbo che diciamo tra quelli gastrointestinali forse è secondo solo la sindrome del colon irritabile irritabile come impatto numerico ed è legato a un malfunzionamento di una piccola valvolina che posta tra lo stomaco e l'esofago. Quindi qua proprio che scende c'è l'esofago e arriva in porzione retrosternale a più o meno questa altezza. Qui comincia lo stomaco un po' in parte rovesciato e le due strutture sono separate da una valvolina che si chiama cardias. Prende proprio questo nome che ricorda il cuore proprio perché è vicino al cuore quindi l'hanno chiamata cardias. E questa valvolina si gioca un po' tutto perché è una valvolina che si deve aprire quando il cibo scende e poi si deve chiudere dopo che il cibo è sceso. Quindi è una botola. Ovviamente il meccanismo non è ad altissima performance e comunque certe volte resta leggermente aperto. Ecco che se uno mangia un pochettino tanto sente un po' di cibo che gli torna un po' su. Quindi non immaginiamoci una botola tenuta stagna. Fisiologicamente può stare per qualche breve lasso di tempo un po' aperto. Però quando questo lasso di tempo diventa troppo lungo e il processo digestivo è cominciato, la secrezione acida non fa altro che far rimbalzare i succhi gastrici in sede esofagea. Ovviamente i succhi gastrici sono acidi per definizione, li chiamiamo acidi gastrici e quindi bruciano. Perché lo stomaco è rivestito di una pellicola che lo difende dagli succhi gastrici, sono una pellicola di prostaglandine. Mentre invece l'esofago non ha questa protezione. Quindi in tutte quelle persone in cui il cardia si è un po' beante, cioè un po' addormentato, tende a aprirsi e poi nessuno lo chiude, quando inizia a digerire inizia e quindi si manifesta questa malattia da reflusso, che è il bruciore tipicamente retrosternale che colpisce nella fase post digestiva. Può colpire anche in assenza di fase post-prandiale, cioè non necessariamente solo dopo aver mangiato. In alcune persone sta costantemente aperto e lo stress aumenta la secrezione acida e poi c'è reflusso, quindi bruciore e dolore. Questa è la malattia da reflusso gastroesofagere. Quindi diciamo si manifesta essenzialmente in questa sensazione di bruciore che noi possiamo avere a livello più della gola o proprio in bocca? Come è il punto preciso in cui ci sono? Noi abbiamo dei sintomi tipici che sono il bruciore retrosternale, quindi mi brucia l'esofago, sembra proprio bruciore. Oppure posso avere anche l'acido in bocca, qualcuno riferisce al senso di amaro o di acido in bocca, quindi può arrivare. Però questi sono i sintomi tipici. Poi ci sono quelli atipici che rendono mal diagnosticata questa malattia, cioè la gente non si accorge che soffre di reflusso gastroesofageo. E i sintomi atipici sono, la cosa più semplice è la tosse, oppure il raspino in gola. Molte persone semplicemente finiscono di mangiare e dopo dieci minuti, un quarto iniziano a fare... Questo è il reflusso gastroesofageo che non dà il bruciore all'esofago, non dà l'amaro in bocca o l'acidità in bocca, ma produce questo raspino terribile. Infatti molte volte la malattia da reflusso viene riscontrata dall'otorino laringoiatra, al quale il paziente si rivolge al medico perché ha bruciori di gola, ha la laringite. Ecco, gli si abbassa il tono della voce. Dice, ma io ho un raspino in gola. Quindi pensa che il problema sia otorino laringoiatrico. L'otorino lo guarda e dice, guarda, tu hai una malattia da reflusso, devi andare da un gastroenterologo. Quali sono le cause del reflusso gastroesofageo? Le cause sono tantissime. In realtà tutto ciò che aumenta la pressione nell'addome, nello stomaco, se uno ha il cardias, questa valvolina che un pochettino si apre, tutto ciò che aumenta la pressione spinge verso l'alto i succhi gastici, quindi l'aumenta. Quindi direi per esempio la gravidanza è un fattore di rischio, perché nell'addome, la donna in gravidanza ha una pressione aumentata. Oppure nell'obesità, il soggetto obeso, il soggetto in sovrappeso ha un'aumentata pressione addominale. Quindi le caratteristiche fenotipiche, la forma della persona è un fattore che può promuovere la malattia da reflusso gastroesofageo. Poi abbiamo la tipologia di cibi. Ci sono alcuni cibi che ognuno di noi sa, la menta, non so, il caffè, la cioccolata, in generale i cibi acidi, il pomodoro, gli agrumi, il succo d'arancia, essenzialmente quindi il cibo. Quindi direi la forma fisica, la persona, direi il cibo, direi l'anatomia, cioè avere più o meno un cardias che stringe o resta un po' lassamente aperto, quindi l'anatomia della persona. E poi probabilmente anche gli ormoni. Nell'insieme, tutti questi fattori contribuiscono a far sì che una persona abbia o non abbia la malattia da reflusso gastroesofageo. L'età può essere un'ulteriore causa o comunque può aggravare questa situazione? Beh sì, è molto comune per esempio nei bambini piccoli, in cui il cardias non sia ancora ben allenato, no? Gli manca aver fatto quelle giuste flessioni che lo rendono muscoloso e quindi chiude bene. Il bambino molto piccolo tipicamente ha la malattia da reflusso. Poi dopo c'è una fase, la fase di bambino, adolescente, giovane, normalmente è più raro. Ovviamente quando inizia la vita vera, quella dello stress, quella del sovrappeso, allora iniziano a farsi sentire. Quindi direi una prima fase, il bambino molto piccolo e poi dopo quando si diventa adulti, sì. Ma più che l'età direi il sovrappeso, ecco il sovrappeso. Il sovrappeso è una delle cause primarie. O le persone estremamente stressate che scaricano nello stomaco, c'è chi scarica nel colon e gli viene la sindrome del intestino irritabile, c'è chi scarica sulla pelle e si copre di macchia, c'è chi scarica con insonnia, non dorme più la notte e c'è chi ha tipicamente, infatti per esempio viene molto frequentemente nel cambio di stagione. Il cambio di stagione vuoi il cambio di indumenti, il cambio di temperature, che crea stress, crea... e la persona riacutizza la malattia. Riacutizza la malattia. Che tipo di prevenzione si può fare nei confronti del reflusso gastroesofageo? Ma non è che se ne può fare tanta, bisogna cercare di mangiare leggero, bisogna cercare di non essere in sovrappeso, bisogna cercare di non andare a dormire mezz'ora dopo aver fatto cena, perché altrimenti la posizione orizzontale ovviamente favorisce ulteriormente il reflusso, quindi bisogna stare almeno due o tre ore in piedi dopo aver mangiato e non mangiare mai tanto, altrimenti aumenta la pressione dello stomaco e un cardiac un po' beante fa fuoriuscire a modo di vulcano che butta fuori la lava. Quindi bisogna fare attenzialmente attenzione a questo e poi da un punto di vista qualitativo rinunciare a determinati cibi, caffè, menta, liquori, gli alcolici, ecco gli alcolici tantissimo esasperano la malattia del reflusso gastroesofageo e i cibi acidi in generale, come per esempio il pomodoro, bisogna fare attenzione a queste cose qua. Oltre a questo non si può fare, è comunque un disturbo che ha una prevalenza, cioè è presente tra di noi in maniera molto diffusa, siamo una società di stressati e di mangioni e quindi questo è il prezzo da pagare. Certo, questo me lo posso immaginare, ci caratterizza proprio. Senta, esistono delle terapie per il reflusso gastroesofageo, cosa possiamo fare per combatterlo, al di là di quella che può essere la prevenzione. Sì, ne esistono diverse in effetti, quindi come ha detto giusta lei, bravissima, in associazione alla prevenzione, perché io non posso pensare di scavalcare l'eccesso di consumo di caffè, di cioccolato, menta o il mio forte sovrappeso perché ho i farmaci, perché non fai il tuo bene in realtà. Quindi in associazione a queste piccole regolette che ho raccontato prima, direi che ci sono farmaci da molto, come dire, leggeri a farmaci anche molto potenti. Direi che partendo dal basso, le cose più semplici da utilizzare sono per esempio gli antiacidi, i sali di magnesio per esempio, l'idrossido di magnesio, senza far nomi, ma sono molto comuni. Però diciamo che non sono curativi, sono solo sintomatici, non prevengono le possibili ulcerazioni e talvolta come effetto collaterale possono dare stipsio di arrea. Poi abbiamo, direi, forse il compromesso migliore, un buon prodotto è l'utilizzo di alginati. I sali di alginato vanno a fare proprio un bel tappo, non lavorano, come dire, basificando l'eccesso di acidità gastrica, ma vanno a fare proprio un tappo, perché il problema del malattia del reflusso gastroesofageo è questo vulcano aperto che erutta lava. Quindi se gli metto un tappo di cemento sopra, lui non erutta più, ovviamente, no? E si può mettere un tappo sul Cardias. Basta usare dei sali di alginato, esistono semplicemente molto easy-easy, sale di alginato più carbonati, oppure ci sono degli alginati potenziati. Al loro interno, per esempio, ci sono preparazioni che utilizzano, per esempio, l'acido dialuronico o idrolizzati di collagene, o ancora meglio, per esempio, i derivati del mirtillo o i derivati della liquirizia, che erano i vecchissimi farmaci degli anni Ottanta per fronteggiare i disturbi da ulcera gastrica. Poi, salendo un pochettino di livello, abbiamo gli antagonisti H2, un nome così che sembra una vicella spaziale, ma in realtà sono farmaci degli anni Ottanta, che lavorano anche abbastanza bene. Per esempio, farmaci come la ranitidina, per esempio, molto famosi, però hanno un problema di durability. Cioè, il farmaco, qualunque farmaco, funziona molto bene all'inizio, poi pian piano funziona sempre un po' meno. Però una durability è buona se hai cinque anni, una durability di sei mesi è meno buona, no? Ecco, questi H2 antagonisti spesso tendono a funzionare troppo poco, poi dopo un po' smettono di funzionare. Salendo, invece, ancora di livello, direi forse i farmaci principe in quest'ottica sono gli antagonisti di pompa protonica. In gergo si chiamano PPI, cioè PPI, vi trovate come sigla. I più famosi, omeoprazolo, pantoprazolo. Sono molto efficaci e anche curativi, nel senso che possono ridurre il rischio di ulcere e anche l'evoluzione a qualcosa di più grave, non so, tipo l'esofago di barret, che è una forma di preneoplasia, precancro. Però hanno un problema, perché ogni cosa è una medaglia a due facce, anche qui c'è la faccia dietro. L'uso di inibitori di pompa nel lungo periodo produce un quadro intestinale che si chiama SIBO. La SIBO è una sovraccrescita di batteri del tenue che produce molto gonfiore, molto fastidio al paziente che provincia ad avere crisi diarroiche, quindi inibitori di pompa protonica andrebbero utilizzati per otto, dodici settimane. C'è gente che li usa per anni e poi va incontro, per curare lo stomaco, va incontro a problemi di natura intestinale. Ecco, questi sono i rimedi. Poi abbiamo anche la chirurgia, soprattutto da attuarsi quando c'è un paziente con ernea iatale, però si riserva solo per casi proprio gravi che non rispondono a nessun tipo di terapia. Benissimo. Allora, dottor Di Piero, noi la ringraziamo per averci fatto questo quadro e per averci aiutato a comprendere meglio che cosa sia il reflusso gastroesofageo e cosa possiamo fare noi come come utenti, come pazienti per contrastare questa patologia e ci vedremo in una prossima occasione. Arrivederci. Grazie mille. Arrivederci. Ciao a tutti. Arrivederci.